E' una gara, non dimentichiamocelo, è una gara, infatti circa metà dei cantanti, come in tutte le gare che sono spietate, non andranno in finale, vero? O non è vero? Ecco, infatti stasera stessa sapremo i risultati delle giurie che ci daranno subito un'indicazione, quindi mi raccomando non scappate, non dico a loro che stanno guardandoci, perché la giuria stanno là, quindi devono dire i loro voti. Allora, la terz'ultima canzone in programma è di Reitano, Giacchini Reitano, si intitola Perché l'hai fatto e la canta Paolo Mengoli. Io ti aspettavo come ogni giorno al solito posto e invece t'ho incontrata per caso insieme a lui. Quando la sera si spengono le luci, non posso, non posso più dormire, ma penso ancora a te. Ti rivedo come ogni giorno al solito posto e la canta Paolo Mengoli. Ti rivedo come eri quando stavi con me, i miei occhi nel buio ora piangono a te. Perché l'hai fatto, credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei e invece no. Perché l'hai fatto, perché hai voluto farmi del male, adesso voglio solo fuggire la verità. I miei occhi nel buio ora piangono a te. Perché l'hai fatto, perché hai voluto farmi del male, adesso voglio solo fuggire la verità. La verità, la verità. Grazie.